Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi voglio raccontarvi di un caso che è avvenuto a Coronado, in California, in quanto nel giro di pochi giorni, all'interno della stessa casa avvingono due delitti diversi. Oggi parliamo del caso di Rebecca Zahao e Max Schaknai. Iniziamo immediatamente a parlare di questo caso che, personalmente, mi ha intrigato davvero tantissimo. È l'11 luglio del 2011 e ci troviamo a Coronado, in California. Una donna di nome Dina Schaknai riceve dal suo ex marito, Jonah Schaknai, dei terribili messaggi sul cellulare. Jonah, infatti, dice a Dina che il loro figlio Max, di soli sei anni, ha avuto un terribile incidente. Max, infatti, cade dalle scale di casa sua. Purtroppo, però, non si limita a prendere una bottarella in testa e tutto passa. Assolutamente no. Purtroppo, questo incidente porta a Max gravissime conseguenze. Sul momento, Jonah dice a Dina di prendere l'auto e di recarsi presso il Ready Children's Hospital, un ospedale pediatrico a San Diego in cui viene portato Max. La donna, quando arriva all'ospedale e vede suo figlio, rimane di sasso. È convinta abbia avuto una terribile caduta, ma quando lo vede si rende conto che la situazione è ben più grave di quanto creda. Il bambino ha riportato gravi danni alla testa, alla schiena e al collo. Ha subito una lesione al midollo spinale e ha delle ossa facciali, le quali hanno influenzato il suo battito cardiaco. Ecco perché a Max è stato indotto il coma farmacologico. Anche se Dina e Jonah sono separati, hanno la custodia congiunta di Max e fanno del loro meglio per andare d'accordo, assicurandosi che il loro figlio stia bene. I genitori di Max sono sotto shock, anche perché il bambino stava passando un'estate favolosa considerando il luogo in cui avviene questo caso. Coronado, in California, è una penisola situata lungo la costa, nelle vicinanze di San Diego. È una mesa turistica da decenni e non vi sono molte case a Coronado. Ecco perché i prezzi delle abitazioni partono da una base di circa 2 milioni di dollari. Insomma, non è assolutamente da tutti potersi permettere una vita a Coronado. È necessario avere ingenti mezzi finanziari. Jonah Shackney, il padre di Max Shackney, è un milionario che si è fatto da solo. Nasce nel 1957 ed è il fondatore, il presidente ed il CEO di un'azienda cosmetica farmaceutica. La sua azienda sede a Phoenix, in Arizona. Anche lui vive lì, ma possiede anche una casa per le vacanze d'estate a Coronado. E non è una casa qualunque, bensì la Spreckle Mansion. Quella casa è una vera e propria pietra migliare della penisola di Coronado. A 27 stanze si affaccia direttamente sulla spiaggia. È una delle ville più belle e maestose di tutta la zona. Inizialmente il divorcio tra Jonah e Dina è stato molto doloroso. Infatti prima abitavano a Phoenix. Ma quando si separano, l'uomo compra alla ex moglie una casa a Coronado. Anche per il bene di Max, che comunque avrebbe potuto passare del tempo in un luogo davvero da sogno. Torniamo quindi all'ospedale pediatrico, dove Dina e Jonah sono seduti accanto al loro bambino privo di sensi. Dina tempesta l'ex marito di domande. Vuole sapere come si è successo, cosa si è successo. Come ha fatto Max a farsi del male in quel modo? Jonah le dice che lui al momento dell'incidente non era in casa. Max infatti si trovava in casa con la ragazza e convivente di Jonah, ossia Rebecca Zahau, e le sue sorelle Xena e Mary Zaina. Mary Zaina racconta che Rebecca si trova in bagno. Sta per farsi una doccia mentre Max sta giocando. Rebecca è in bagno, si sta legando i capelli per non bagnarseli durante la doccia, quando sente un rumore tremendo. Corre a controllare e trova Max per terra, sul pavimento dell'ingresso. Vicino a Max vengono ritrovati i resti dell'enorme lampadario che sta appeso al soffitto. Il bambino ha faccia in giù, pare non stia respirando, e a fianco a lui c'è per terra il suo monopattino. Rebecca è addestrata per il primo soccorso, quindi la prima cosa che tenta di fare è rianimare Max. Nel frattempo urla alle sue sorelle di chiamare il 911. Jonah fa appena in tempo a tornare a casa dalla palestra per vedere suo figlio di 6 anni su un'ambulanza. Max viene quindi portato all'ospedale, Jonah allerta a Dina e la polizia ben presto si dirige sul posto. Visto la gravità dell'incidente e il coinvolgimento di un bambino di 6 anni, scattano immediatamente le indagini della polizia di Coronado. I poliziotti giunti alla villa cercano di interrogare Rebecca, che però è sotto shock. Quindi racconta la sua avversione e dice che era in bagno. Ha sentito questo rumore e quindi è a corsa per vedere cosa stesse succedendo. Aggiunge però un altro particolare. Rebecca sostiene che mentre stava cercando di rianimare Max, quest'ultimo, mormola una parola, ossia Ocean, il nome del loro cane. La polizia di Coronado analizza la scena, presumendo che Max stesse giocando col monopattino, sfrecciandolo sul pianerotto al piano superiore e fosse caduto di sotto portando con sé una grande parte del lampadario. Dina, la madre di Max, cerca di capire cosa si è successo e scopre che in realtà quella mattina era proprio compito di Rebecca prendersi cura di Max. Il tutto in pratica era accaduto sotto il suo naso. La domanda è perché Max stava giocando col monopattino così vicino alle scale quando gli ha vietato farlo? La famiglia di Max non ha fatto altro che puntare il dito sulla ragazza di Jona, Rebecca. L'uomo però è molto chiaro con Dina e le dice Tu non puoi dare la colpa alla mia ragazza. Anzi, ti dirò di più, in tutto questo tu dovresti metterti in ginocchio e ringraziarla. E sai perché? Per aver prestato primo soccorso a Max. È lei che gli ha salvato la vita. Rebecca nonostante sia appoggiata dal suo compagno si sente chiaramente in colpa. In quanto è ben consapevole che è vero, era lei quella in casa. Era lei che doveva prendersi cura di Max. Ed era lei che l'aveva perso di vista. Rimane così tanto turbata dall'accaduto da non riuscire a descrivere in modo dettagliato cosa fosse successo. Ecco perché la famiglia Shaknai la trova fortemente sospetta. Rebecca ha gli occhi di tutti puntati addosso. E gli investigatori indagano sull'origine della sua relazione con Jona. Ma prima di andare oltre e di raccontarvi la relazione con l'uomo, facciamo un passettino indietro. Chi è Rebecca? Rebecca Zahao nasce il 15 marzo del 1979 ed è di origine birmana. Dopo aver vissuto in Nepal e in Germania, Rebecca e la sua famiglia si trasferiscono negli Stati Uniti. I suoi genitori e la maggior parte dei suoi parenti si stabiliscono a St. Joseph, in Missouri. Mentre Rebecca, che ha il tempo ha 28 anni, si trasferisce in Arizona. Trova lavoro in una clinica oculistica e si appassiona parecchio a quel lavoro. Di conseguenza prende un diploma per diventare tecnico di laboratorio. In seguito viene assunta da una clinica oculistica a Phoenix. La donna va molto orgogliosa del suo lavoro, che è anche ben pagato. Almeno abbastanza da coprire le sue spese e da aiutare la sua famiglia. Ogni mese Rebecca manda ai suoi genitori un assegno di 400 dollari. Nel 2008 incontra i suoi genitori nella clinica in cui lavora, a Phoenix. E tra i due scatta immediatamente la scintilla. Infatti, poco dopo il primo incontro, Jona invita Rebecca a cena. Il 19 ottobre del 2008 i due hanno il primo appuntamento. E nonostante la grande differenza d'età che c'è tra di loro, ossia quasi 20 anni, i due stanno davvero molto bene assieme. Hanno interessi simili come ad esempio lo sport, l'alimentazione sana. Inoltre, entrambi mettono la famiglia al primo posto. Sono molto molto legati alla loro famiglia. I due si frequentano per circa tre mesi prima di approfondire ulteriormente la loro relazione. Quindi, Jona decide di presentarla ai suoi figli. John ha due figlie avuti con la sua ex moglie, Dina, ormai grandi. E poi c'è Max, che è piccolino, il più piccolino. Tra Rebecca e Max nasce davvero un legame molto molto profondo. Rebecca adora prendersi cura di lui e quel tempo diventa quasi una madre adottiva per Max. Rebecca infatti prepara Max il cibo, i pasti, lo porta a fare sport. In quel momento Max, se non erro, faceva calcio, quindi lo portava a calcio. E molti sono convinti che a Dina Shackney non vada poi così a genio quest'unione tra Max, suo figlio, e Rebecca, la fidanzata del suo ex marito. In quanto ci sono molte occasioni in cui Max preferisce stare con Rebecca piuttosto che andare con Dina. E questa situazione chiaramente genera delle tensioni. Ma nonostante queste dinamiche familiari complicate, dopo un anno di relazione, Jonah e Rebecca stanno continuando a costruire la loro storia. Arriva il 2010 quando chiede a Rebecca di lasciare il suo lavoro per andare con lui e i suoi figli in vacanza a Coronado, in California. Rebecca però si trova in una situazione un po' scomoda, non può lasciare il lavoro, in quanto dà alla famiglia mensilmente una cifra per aiutarli. Ok, lei sarebbe stata mantenuta da Jonah, ma i suoi parenti vuole che lei vada con lui, vuole che parta con lui, quindi le dice che non ci sono problemi. Avrebbe inviato lui mensilmente quei soldi alla sua famiglia. Così Rebecca darete a Jonah. Però c'è un fatto. Ora è caduta una cosa davvero grave, perché in seguito all'incidente di Max, Rebecca potrebbe perdere seriamente tutto ciò che ha costruito, fino a quel momento. In quanto Rebecca aveva lasciato il suo lavoro e non aveva altre fonti di reddito. Il giorno dopo l'incidente, Dina e Jonah stanno al capezzale del figlio, mentre Rebecca si recchina in aeroporto. Prima accompagna sua sorella Zaina, poi recupera il fratello di Jonah, ossia Adam. Quest'ultimo è capitano di un rimorchiatore, vive a Memphis ed è praticamente l'opposto di Jonah. Adam e Rebecca quindi si recano immediatamente in ospedale. Adam in questo modo può dare conforto a suo fratello, che è totalmente distrutto. Dopodiché decidono di andare a cenare tutti insieme. Il punto è che non ci sono grandi momenti di felicità, tutti sono in silenzio e sono preoccupati per Max. Jonah torna in camera di ospedale per continuare a vegliare su Max, mentre Adam e Rebecca tornano alla villa. Adam è molto stanco, ha viaggiato per tutto il giorno e anche Rebecca è alquanto distrutta. Quest'ultima quindi si dirige di sopra, in camera da letto, mentre Adam si reca nella Dependance, dove si è sistemato. Rebecca verso le 20 circa, parla con sua sorella in Missuri, avvisandola che si sta preparando per andare a letto. Vuole puntare la sveglia alle 5, così da essere in ospedale per le 6, in modo da portare a Jonah un cambio di vestiti e la colazione. Ma soprattutto Rebecca vuole vedere Max, vuole sapere come stia, oramai si occupa di quel bambino da tre anni, è molto molto legata a lui. Però Rebecca, prima di coricarsi, dice a sua sorella le preoccupazioni che la attanagliano. Infatti Rebecca rivela a Zaina che non sa come si sarebbero messe le cose in futuro, specialmente con Max in ospedale. Non è sicura di rimanere lì, forse sarebbe tornata a casa. Inoltre, per qualche tempo, non avrebbe avuto introiti. Prima di salutare sua sorella, Rebecca dice a Zaina di dire a loro madri che l'avrebbe contattata la mattina dopo alle 6, durante il tragitto per recarsi in ospedale. Passano tre ore, arriva mezzanotte e mezza, ed il telefono di Rebecca squilla di nuovo. Jonah non prova a contattarla, ma Rebecca non risponde. Quindi l'uomo le lascia un messaggio in segreteria, dicendole che secondo i dottori la situazione di Max è davvero molto critica. Arriva la mattina successiva. È il 13 luglio, quando alle 6 del mattino parte una chiamata al 911 da Adam Shackney. L'uomo dice al 911 di essere uscito dalla dependenza e di aver trovato una ragazza impiccata. Non sa neanche se è ancora viva. Sono passate 48 ore da quando Max è stato trovato sul pavimento di quella villa. Ed ora ecco che dalla stessa villa parte un'ennesima tragica chiamata. I poliziotti di Coronado arrivano alla villa, ossia al 10.43 di Ocean Boulevard e trovano Adam. I poliziotti vengono condotti verso la villa sul retro, dove trovano Rebecca ad agiata a terra. In poco tempo i paramedici capiscono che non c'è nulla da fare. Rebecca è senza vita, senza vestiti, ha le mani legate dietro la schiena, così come le caviglie. Ha una corda intorno al collo e anche addosso una maglietta blu, sempre all'altezza del collo. Visto il suo stato, i paramedici ipotizzano che sia venuta a mancare per le 3 di notte. I piedi sono sporchi, sul corpo trovano tracce di vernice nera e nell'interno coscia una macchia di sangue. La polizia a questo punto si concentra sull'unica persona presente in casa. Adam. Cos'era successo? Adam racconta che quella mattina si è alzato, è uscito dalla dependance per cercare del caffè nella villa e proprio in quel momento ha trovato Rebecca, la ragazza di suo fratello, impiccata al balcone del primo piano con una corda rossa. Dopo aver parlato con la polizia di Coronado, Adam contatta suo fratello in ospedale e gli dà la terribile notizia. Rebecca si è suicidata. Dina gli chiede cosa sia succedendo e Jonah le racconta che Rebecca è stata trovata senza vita. Dina quindi gli chiede come sia successo e l'uomo fa un gesto strano. Unisce le due mani come a reggere una spada da samurai per poi spingerlo contro il suo stomaco e dire onore asiatico. Jonah è convinto che Rebecca abbia sentito il messaggio sulla segreteria che lui le ha lasciato sulle gravi condizioni di Max. Ecco perché Rebecca ha scelto di prendere una decisione così drastica. L'uomo crede che Rebecca si sentisse in colpa in quanto in cuor suo sapeva di essere colpevole. Era l'adulta responsabile di Max. Max, un bambino di sei anni tenuto in vita almeno in quel momento da dei macchinari. Ecco perché ad aver saputo che le condizioni di Max erano peggiorate l'avevano spinta oltre al limite portandola al suicidio. Subito dopo Jonah avvisa la famiglia di Rebecca della sua tragica fine. Tre ore dopo il ritrovamento del corpo di Rebecca le forze dell'ordine di Coronado prendono una decisione abbastanza importante. I poliziotti sono stati i primi sulla scena. Hanno perquisito la casa e scattato delle foto. E in breve tempo il capo della polizia si è reso conto e ha detto che quel caso è troppo imponente per loro. Contatta quindi lo sceriffo della contea di San Diego che manda sul luogo l'intera squadra omicidi. L'ufficio dello sceriffo manda una detective esperta una donna di nome Angela Tzuida arriva sul posto tre ore dopo la prima chiamata verso le 9.30 del mattino per iniziare le indagini. Il vice sceriffo riporta all'omicidi che Rebecca era stata trovata senza vita con le mani legate immobilizzate dietro al corpo così come le caviglie, i piedi. Inoltre aveva anche un cappio attorno al collo. Ogni dettaglio sulla dipartita di Rebecca Zahau a mio parere pare sospettoso. La detective Tzuida e la sua squadra di tecnici setacciano le 27 stanze della casa. A piano terra non trovano nulla di particolare ma nel garage di detective scoprono da dove proviene la corda rossa con cui è stata legata Rebecca. In bella vista c'è un'enorme matassa di fune rossa nautica. La stessa trovata su Rebecca Zahau. I detective si concentrano poi sulle camere al piano superiore e quando la polizia entra nella camera degli ospiti si accorge immediatamente che la corda rossa è legata alla struttura in ferro battuto del letto e si estende fino a fuori sul balcone. Nella stanza individuano due coltelli un coltello da bistecca con delle tracce di sangue sul manico e un coltello da cucina. Inoltre la polizia trova anche il cellulare di Rebecca un telo da bagno e altre piccole tracce di sangue. In cerca di impronte digitali gli investigatori notano delle lettere scritte con della vernice nera sulla porta della camera degli ospiti. La frase dice lei ha salvato lui tu puoi salvare lei. Sul pavimento sono presenti due pennelli uno dei quali è stato usato per fare quella scritta sulla porta accanto al pennello ecco un tubetto di vernice nera acrilica quegli oggetti provengono dal materiale per dipingere proprio di Rebecca che che se ne dica l'unica altra persona presente in quella villa quella sera era Adam solo Adam nessun altro gli investigatori quindi gli chiedono se per cortesia si può reccare in centrale pare che Adam voglia collaborare in quanto non ha un consulente ed effettua volontariamente un test con la macchina della verità che risulta inconcludente cosa significa inconcludente vuol dire che dopo due ore di interrogatorio con la macchina della verità gli investigatori non riescono a capire se Adam sta dicendo la verità o stia mentendo la macchina della verità non è affidabile come già vi ho detto molti serial assassini l'hanno aggirata alla grande e sono riusciti a farla franca per molti crimini ora la macchina della verità in questo caso dà un risultato negativo barra inconcludente ma se la macchina della verità dà un risultato inconcludente non vuol dire nulla vuol dire che il soggetto può essere colpevole come può essere innocente vuol dire che il soggetto può dire la verità come può mentire nonostante ciò i poliziotti pensano di non avere altre ragioni per trattenerlo non essendoci più che altro prove materiali quindi lo fanno tornare a Memphis a casa sua più tardi quel giorno mentre gli investigatori cercano continuamente nuove piste il ritrovamento del corpo nella più bella villa di Coronado diventa una notizia di dominio pubblico mentre la famiglia Zahao attende nuove informazioni dalla polizia fa una scoperta che li lascia spiazzati uno per uno i familiari di Rebecca si sono tranquillizzati un po' hanno ceso la televisione e sanno solo che Rebecca si sia impiccata nient'altro tuttavia i notiziari già raccontano il caso e dicono che Rebecca è stata trovata senza vestiti impiccata al balcone del primo piano della casa con mani e piedi legati i suoi cari vedono Rebecca in tv stesa sul prato della villa senza vestiti sotto gli occhi di tutti in quanto l'autorità è lì che l'hanno lasciata tutto il giorno non l'hanno nemmeno coperta la famiglia di Rebecca a questo punto dichiara pubblicamente i propri sospetti Zaina la sorella di Rebecca sostiene che non si sarebbe mai tolta la vita mai ad un notiziario dice testuali parole Rebecca era piena di vita esuberante e amava divertirsi speriamo che ora le sia resa giustizia per Zaina il suicidio non può essere un'opzione ne è convinta Rebecca è stata fatta fuori da qualcuno in effetti se ci pensiamo un attimo gli elementi di questo caso sono piuttosto insoliti come fa una donna a legarsi da sola mani e piedi per poi impiccarsi e poi che bisogno c'era di legarsi le mani e i piedi arriva il 16 luglio quando i medici comunicano a Dina e a Jonah la morte celebrale di Max loro figlio il dipartimento dello sceriffo di San Diego tiene il 18 luglio una conferenza stampa in cui dichiara l'avvio di due diverse indagini una su Rebecca Zahao e un'altra sulla dipartita di Max Shaknai un bambino di soli sei anni per tutte le brutte notizie messe in circolazione il prezzo delle azioni dell'azienda di Jonah inizia a crollare Jonah inizia letteralmente ad andare nel panico ingaggia un ufficio stampa per occuparsi dei media e assume delle guardie armate per farsi scortare ovunque anche al funerale di Rebecca Jonah si porta la scorta armata evita la luce dei riflettori ma l'ex procuratore distrettuale di San Diego Paul Feinst compare sulla scena del crimine e viene anche fatto passare oltre i nastri ma perché mai chiamare l'ex procuratore distrettuale se si tratta di suicidio gli investigatori continuano ad approfondire le indagini a questo punto si concentrano su Rebecca e sulla prova più assurda sulla porta della camera degli ospiti c'è la scritta lei ha salvato lui tu hai salvato lei oppure lei ha salvato lui tu puoi salvare lei non so esattamente quale sia la versione corretta quindi io ve le dico tutte e due in caso correggetemi qui sotto nei commenti questo in ogni caso è un messaggio criptico e di possibili autori di quella scritta sulla porta possono essere due o è stata Rebecca stessa prima di farla finita a scrivere quella frase o qualcuno che l'ha uccisa per poi cercare di far passare il tutto come suicidio uno degli elementi che gli investigatori devono verificare è lo stato mentale di Rebecca in quel periodo stava bene era depressa era triste gli investigatori quindi ottengono l'accesso ai tabulati telefonici di Rebecca dell'ultimo anno e scoprono sorpresa sorpresa che non era affatto una donna felice anzi tutt'altro su una nota del cellulare aveva scritto questa frase sento un grande senso di vuoto quando non penso piango e nessuna somma di denaro vale quello che sto passando ma questo che cosa vuol dire Rebecca è conosciuta per essere una donna sorridente esuberante estroversa ma dei messaggi trovati sul suo telefono Rebecca non sembra affatto così felice gli investigatori notano anche che Rebecca si lamenta spesso su un punto che è più o meno sempre il solito ossia non ha una carriera e questa cosa davvero non le va più bene ha solo Jonah che le permette di condurre quella vita lussuosa ma neanche tutto il denaro di Jonah riesce a farle sparire l'angoscia che prova Rebecca si legge dai messaggi non aveva una visione ottimistica del futuro per niente e senza il suo cellulare i detective non avrebbero mai scoperto tutto ciò sette settimane dopo le indagini si concludono e lo sceriffo Bill Gore tiene una conferenza stampa per annunciare quanto scoperto è il 2 settembre del 2011 l'uomo sostiene che per quanto riguarda Max le lesioni riportate assieme alle prove raccolte sul posto si sono dimostrate coerenti con una caduta dal primo piano non ci sono prove che lasciano presupporre ad azioni criminali è stata purtroppo una tragica fatalità ecco perché le autorità archiviano la morte di Max come un incidente il medico legale esamina poi il caso di Rebecca Zahau sostiene che basandosi sulla totalità delle indagini sul materiale rifertato dal dipartimento dello sceriffo e dai risultati dell'autopsia sono arrivati alla conclusione che la morte sia stata un suicidio per impiccagione gli investigatori credono che Rebecca si sia messa un bavaglio in bocca proprio col fine di non urlare durante il tentativo di suicidio poi vengono presentate le schiaccenti prove scientifiche ritrovate sul luogo il DNA trovato sui nodi su magni e piedi sulla corda legata ai piedi del letto e sul coltello piccolo appartiene solo a Rebecca non c'è altra spiegazione a quanto accaduto se non che si sia suicidata ma perché si è tolta la vita ebbene dopo aver ricevuto il messaggio di Jonah sulla situazione disperata di Max si è scoraggiata così tanto da dirigersi in garage afferrare la corda scrivere quel criptico messaggio sulla porta della camera degli ospiti imbavagliarsi legarsi da sola dirigersi sul balcone e buttarsi di sotto totalmente senza vestiti entrambi i casi quindi sono chiusi ma nessuna delle due famiglie accetta le conclusioni dello sceriffo i familiari di Rebecca sottolineano che sanno che in quel periodo la ragazza sta passando un periodo difficile anche con Jonah ma sostengono che non si sarebbe mai tolta la vita piuttosto se ne sarebbe andata immediatamente se avesse capito che la situazione era ingestibile per lei per la famiglia di Rebecca infatti è un durissimo colpo sapere che il risultato delle indagini del dipartimento dello sceriffo sono arrivate a delle conclusioni non plausibili ai loro occhi mentre Dina Shaknai la madre di Max sostiene che le dichiarazioni degli investigatori che bollano la morte di Max come puramente accidentale siano sbagliate la donna pensa proprio si tratti di omicidio Dina non volendo accettare quanto scoperto dallo sceriffo decide di agire da sola e contatta Judy Melinek un affermato medico legale di San Francisco Judy quindi riorganizza il caso di Max e nota alcuni dettagli particolari nelle immagini di quell'enorme lussuosa villa la prima cosa che nota è il pavimento del primo piano che non è composto da linoleon bensì da moquette fino a prova contraria un monopattino su una moquette non sfreccia quindi come può aver raggiunto una velocità tale da aver fatto superare a Max la balaustra per di più Max è troppo basso per superare la ringhiera delle scale ed è improbabile che si sia buttato di sotto da solo il mistero quindi si infittisce per davvero un'analisi dei dati dell'autopsia accresce i dubbi sui dati raccolti dallo sceriffo infatti erano presenti varie lesioni sulla sua testa sotto l'occhio sulle palpebre e su una spalla tutti punti diversi e lontani tra di loro questo in effetti farebbe pensare ad altre cause la dottoressa non pensa che le prove delle lesioni di Max combacino con la teoria che si è accaduto accidentalmente oltre la balaustra poi ecco che è il racconto di Rebecca nel verbale dell'incidente della polizia a catturare l'attenzione della dottoressa Melinek Rebecca ha sostenuto che quando prestava Max il primo soccorso quest'ultimo abbia pronunciato la parola Ocean ma è impossibile che abbia parlato perché Max dopo l'impatto era non solo immobilizzato ma anche privo di sensi di conseguenza Rebecca ha mentito la dottoressa Melinek stabilisce che il decesso è causato da danni celebrali ma è convinta che Max sia stato ucciso e questo mette il caso sotto una luce completamente diversa la dottoressa ipotizza che Max stia giocando col monopattino e Rebecca tentando di rimproverarlo l'abbia presa in braccio il bambino quindi cercando di divincolarsi le sarebbe sfuggito cadendo dalla balaustra il coinvolgimento di Rebecca per la dipartita di Max spiegherebbe anche la sua di morte i sensi di colpa per la morte del bambino sono molto pesanti ma la famiglia Zahao non ci crede non solo mette in discussione questa teoria ma anche la gestione del caso da parte dell'ufficio dello sceriffo di San Diego secondo la famiglia Zahao gli investigatori hanno messo i paraocchi fin da subito non conducendo in modo corretto le indagini quindi cercano in qualche modo di far riaprire il caso ma come omicidio e non come suicidio assumono così Anne Bremner un'avvocata che rappresenta la famiglia Zahao per riesaminare le prove la Bremner chiama un esperto mondiale della scientifica ossia Cyril Wecht un patologo forense e consulente di medicina legale la cosa che sostiene l'uomo l'ha colpito riesaminando il caso è stato il modo in cui Rebecca è stata legata si sarebbe dovuta arrampicare sulla ringhiera per poi buttarsi di sotto e l'avrebbe fatto legata a mani e piedi e senza vestiti la verità però è che per esaminare un caso non basta solo il referto dell'autopsia serve molto di più quindi i parenti di Rebecca fanno riesumare la sua salma per permettere al dottor Cyril di eseguire una seconda autopsia esaminando la testa il dottore trova quattro emorragie sotto cutanee la polizia era convinta che Rebecca si fosse buttata dal balcone della camera picchiando la testa durante la caduta il punto è che non c'erano sporgenze che Rebecca avrebbe potuto colpire durante la caduta per di più ripeto era legata oltretutto era impossibile che avesse sbattuto la testa nei punti sopra le orecchie e sul cranio accidentalmente contro qualcosa un po' complicato insomma non vi sono altre spiegazioni quelle emorragie sono traumi dovuti da qualche corpo contundente poi ecco che arriva l'esame del collo che è fondamentale il pomo di Adamo o cartilagine tiroidea non è danneggiato ma queste sono strutture lesionate in caso di impiccagione però il medico trova altre lesioni sul collo e crede siano proprio quelle lesioni ad indicare la vera causa della morte di Rebecca in quanto l'osso ioide è danneggiato in modo grave e quest'osso si trova al di sotto della mandibola questa circostanza solitamente si verifica nei casi di strangolamento non nei casi di impiccagione il dottore sostiene di aver effettuato un esame molto molto specifico arrivando ad una conclusione non si è trattato di suicidio ed ecco che un altro disegno in mente si crea si crea un'altra storia la dipartita di Rebecca è stata messa in scena qualcuno l'ha strangolata e gettata al piano di sotto per inscenare un macabro e bizzarro suicidio a questo punto Ann Bremner e la famiglia Zahau espongono le proprie scoperte agli investigatori parlano con la polizia di Coronado con lo sceriffo e col procuratore distrittuale di San Diego chiedono di riaprire il caso ma la loro richiesta viene rifiutata però la famiglia Zahau è convinta che Rebecca sia stata assassinata quindi prende una decisione importante nel 2013 vogliono intentare una causa civile per arrivare a qualche risultato quindi contattano l'avvocato Kate Greer ma cosa significa causa civile? vuol dire che nessuno sarebbe stato ritenuto penalmente responsabile della morte di Rebecca una sentenza civile può stabilire solo dei risarcimenti ma in questo caso può essere anche un incentivo per la polizia e per gli investigatori a quantomeno riconsiderare di riesaminare il caso Kate Greer si prepara al processo e scopre un rapporto della notte in cui è morta Rebecca a quanto pare c'è stato un testimone oculare che ha visto Dina Shackney alla villa verso l'ora dell'omicidio ma Dina che movente aveva? beh pensandoci un movente c'è ed è pure bello grosso forse era arrabbiata con Rebecca perché era convinta che lei fosse la colpevole per la morte di suo figlio per di più quella sera mica c'era solo Dina eh no era presente anche sua sorella gemella Nina la famiglia Zahao è convinta che Adam Dina e sua sorella abbiano cospirato per far fuori Rebecca Kate Greer ha detto loro che se avevano prove scagionanti potevano tranquillamente presentarle ma nessuno di loro ha presentato alcuna prova la logica interpretazione delle prove suggerisce che Dina Shackney e sua sorella Nina abbiano affrontato Rebecca quella sera per poi colpirla alla testa e immobilizzarla possiamo supporre che dopo averla legata Adam abbia scritto il messaggio criptico sulla porta sistemando la stanza per inscenare un perfetto suicidio arriva luglio del 2013 la famiglia Zahao intenta una causa chiedendo un esarcimento di 10 milioni di dollari ad Adam Shackney Dina Shackney e a sua sorella Nina Adam Nina e Dina negano fortemente ogni coinvolgimento ovviamente passa il tempo e Kate Greer continua a prepararsi per il processo ma ecco che nel 2017 tiene una conferenza stampa con Dina Shackney e sua sorella Nina a fianco a lui l'uomo sostiene che erano convinti di avere prove a supporto del fatto che sia Dina che Nina fossero coinvolte nella dipartita di Rebecca ma queste prove sono state confutate e la teoria elaborata inizialmente che le vedeva complici era assolutamente sbagliata infatti ci sono dei filmati dell'ospedale pediatrico che mostrano Dina in ospedale quella notte accanto a suo figlio Nina Romano invece sua sorella è tornata a casa di Dina a Coronado con un testimone proprio per rimanere lì a dormire quindi entrambe le donne hanno un alibi di ferro la causa a questo punto procede solo con Adam Shackney anche se Adam non è accusato di nessun crimine il giudice approva il proseguimento del processo per danni da morte per omicidio contro di lui la differenza tra un processo civile e un processo penale è l'unere della prova mentre in un processo penale è necessario provare la colpa oltre ogni ragionevole dubbio in un processo civile la soglia è molto più bassa è sufficiente l'abbondanza di prove e quanto è plausibile che qualcosa sia accaduto la cosa più importante per la famiglia Zahau ora è dimostrare a tutti che Rebecca non si è suicidata il responsabile della sua morte è Adam Shackney nel marzo del 2018 quasi sette anni dopo la dipartita di Rebecca inizia il processo l'avvocato della difesa Daniel Webb è un ex procuratore di alto livello nella dichiarazione dell'accusa Kate Greer sostiene che Adam Shackney prima abbia aggredito Rebecca e poi sistemato tutta la scena del crimine scenando un suicidio nella sua dichiarazione d'apertura Daniel Webb racconta rende palese i fatti nudi e crudi ossia le autorità hanno ritenuto sia stato solo un suicidio nessuno è stato arrestato o accusato per l'omicidio di Rebecca nel corso del processo Kate Greer presenta alla giuria la testimonianza video di una vicina degli Shackney a Coronado che ha affermato di aver sentito delle urla provenire dalla villa verso le 11 e mezza di sera il giorno successivo alla dipartita di Rebecca la donna ha contattato l'ufficio dello sceriffo di San Diego il problema è che si trattava di una donna anziana quindi gli investigatori non l'hanno mica presa sul serio hanno pensato si fosse confusa la testimone anche in aula dice chiaramente di aver udito una donna sulla trentina urlare la parola aiuto quella notte poi Kate Greer chiama Lisa Di Meo un'esperta di scienze forensi la donna rimane molto sorpresa dalle prove raccolte in questo caso ma mai mostrate al pubblico ecco perché Kate Greer l'ha contattata proprio per analizzare il tutto e capire se manchi qualcosa le impronte di Rebecca sono state prese dalla camera da letto questo vuol dire che li erano presenti ma in altri posti dove avrebbero dovuto trovarle non le hanno trovate il suo DNA non è stato ritrovato neanche su oggetti che sicuramente aveva toccato poco tempo prima non è sulla maniglia della porta non è sul resto della porta non è sui pennelli tutti questi elementi sono totalmente privi di tracce quindi è possibile che qualcuno li abbia ripuliti prima di repertarli Greer fa domande a Lisa Di Meo anche per altrettanti elementi trovati sulla scena del crimine nello specifico i due coltelli uno è un grande coltello da cucina e sulla sua lama sono state trovate in effetti tracce di Rebecca impronte digitali per l'esattezza il problema è che queste tracce non sono sul manico del coltello le impronte non sono proprio compatibili col modo normale con cui si regge un coltello in quanto i punti dove si trovano le impronte sono davvero strani quindi la Di Meo cerca di capire come siano finite quelle impronte sulla lama in quel modo e conclude che le impronte digitali indicano che Rebecca abbia tenuto il coltello con la lama dietro alla schiena proprio nel tentativo di liberarsi le prove sul coltello più piccolo secondo la Di Meo indicano il movente di Adam o meglio la donna dice che c'era del sangue sul manico del coltello ma non c'era alcuna impronta sulle tracce di sangue come se qualcuno avesse toccato quel coltello con le mani grondanti di sangue piene di sangue quel sangue però a quel coltello come c'è arrivato? considerando che era su tutta la parte inferiore del manico arrivando anche fino all'incavo del manico del coltello le mani di Rebecca risultano pulite ma il sangue sul coltello è il suo sangue e in effetti Rebecca in quel periodo ha il ciclo Lisa Di Meo sostiene che quel coltello probabilmente deve essere entrato in contatto con le zone intime di Rebecca non ci sono altre spiegazioni Kate Greer infine passa al referto più strano il criptico messaggio scritto sulla porta che significato ha? quando Max è caduto e ha smesso di respirare se non ci fosse stata Rebecca a rianimarlo col primo soccorso sarebbe morto ecco perché lei ha salvato lui significa che Rebecca ha salvato Max questa notizia arriva in media solo dopo la dipartita di Rebecca e questo dato è importante perché a questo punto solo una persona era consapevole del fatto che lei avesse rianimato Max ossia Adam Schaknai il fratello di Jonah Schaknai nel controinterrogatorio la difesa chiama alla sbarra un testimone molto atteso ossia Jonah Schaknai quando va alla sbarra l'uomo incanta tutti quanti ma in effetti stiamo parlando di un uomo milionario abituato a stare sotto i riflettori il punto è che quello accusato della morte della sua fidanzata è suo fratello non lui Jonah spiega che quando Adam l'ha chiamato per avvisarlo che Rebecca non c'era più è stato sconvolgente considerando che già aveva un figlio in ospedale in fin di vita la sua deposizione chiaramente è straziante la difesa si concentra sul messaggio vocale che ritengono abbia spinto Rebecca al suicidio Jonah spiega che è uscito dalla stanza di terapia intensiva di Max e ha chiamato Rebecca riportando le parole dette dal dottore anche se Max fosse sopravvissuto nel migliore dei casi non avrebbe più né camminato né parlato la difesa continua chiedendo a Jonah se per caso Adam abbia mai fatto qualcosa in vita sua che gli abbia fatto sospettare che suo fratello possa spingersi a compiere gli atti di cui è accusato Jonah ovviamente risponde di no assolutamente no la difesa a questo punto affronta un elemento misterioso del caso ovvero i nodi ritrovati sul corpo di Rebecca sembrano molto intricati insomma una persona qualunque non li avrebbe saputi fare quelli infatti sono nodi marinari ma Jonah aveva anche una risposta sul perché Rebecca avrebbe potuto sapere come praticare quei tipo di nodi andavano in barca tutte le settimane ed era lei a ormeggiare la barca al molo a questo punto tocca a Kate Greer controinterrogare Jonah Shackney e comincia contestando la spiegazione dei nodi l'accusa prepara una galloccia campione la stessa corda del crimine e a questo punto chiedono a Jonah di fare il nodo Jonah ha fatto un nodo a otto e non l'ha fatto perfetto come quelli che Adam credono abbia fatto su Rebecca oltretutto ormeggiare un'imbarcazione non significa saper fare dei nodi marinari nel frattempo la sorella di Rebecca ribole di rabbia perché è convinta che Jonah stia mentendo sua sorella infatti le aveva raccontato che in barca erano andati a farci un giro un paio di volte l'anno prima e in effetti questa dichiarazione ha dimostrato chiaramente alla sorella di Rebecca che quell'uomo non era affidabile e avrebbe fatto solo il meglio per se stesso inoltre l'ha confermato che in realtà quell'uomo non l'amava affatto Kate Greer pressa Jonah sui suoi rapporti con gli investigatori in quanto aveva saputo che aveva parlato con lo sceriffo mentre le indagini erano in corso e a quanto pare aveva provato a farle concludere velocemente dal dipartimento hanno ammesso che Jonah ha fatto pressione allo sceriffo ecco perché le indagini sono durate poco successivamente per discutere dello stato mentale di Rebecca prima della sua morte la difesa chiama un esperto a testimoniare lo psicologo Alan Berman il quale sostiene che Rebecca aveva già motivo di sentirsi in colpa di vergognarsi di provare un'ansia terribile per quanto successo a Max quindi aveva uno stato interno alterato e anche una crescente paura che la storia con Jonah potesse finire male l'opinione di Alan Berman è che Rebecca in quel momento fosse depressa quindi consolida la tesi della difesa la difesa poi chiama a testimoniare Angela Zuida l'investigatrice capo dell'ufficio dello sceriffo di San Diego la donna dichiara che non sono state trovate altre impronte né DNA a parte quelle di Rebecca ecco perché sono arrivati alla conclusione che si trattasse di un suicidio il problema per la difesa in questa situazione che l'accusa ha già dipinto un quadro in cui il colpevole ha potuto facilmente eliminare le proprie tracce nella stanza nel controinterrogatorio Angela Zuida deve vedersela con Kate Greer il quale dice alla donna certo non avete trovato DNA da nessun'altra parte ma magari hanno eliminato le prove la donna si limita a rispondere sempre non abbiamo trovato altre impronte né altro DNA Angela Zuida parla solo di fatti quindi Kate Greer la sfrutta a proprio vantaggio insinuando il dubbio che magari non avevano trovato nulla perché il tutto era stato ripulito a questo punto tocca ad Adam Shackney sedersi alla sbarra il suo avvocato gli fa una domanda diretta ossia ha mai fatto qualcosa in qualsiasi momento della notte che abbia potuto provocare la morte di Rebecca Adam risponde no e a questo punto tocca a Kate Greer interrogare il testimone parte smontandolo sul racconto di come abbia trovato Rebecca appesa al balcone prima l'avvocato fa sentire la chiamata al 911 e in effetti risulta strana in quanto Adam dice letteralmente c'è una ragazza impiccata non ha chiamato la ragazza per nome ossia Rebecca ne ha detto la ragazza di mio fratello Adam però sostiene non ci sia un vero motivo per questa cosa in quanto erano le 6 e 40 si era svegliato da poco era mezzo rincoglionito e la prima cosa che si è trovato davanti quando ha messo il naso fuori dalla dependance è una ragazza impiccata di conseguenza ha chiamato il 911 e ha parlato un po' di getto Kate Greer poi fa vedere delle foto dell'entrata della villa chiedendo ad Adam Rebecca in che direzione era rivolta? a che altezza da terra si trovavano i piedi di Rebecca? ma come? questo non è un dettaglio che le è rimasto impresso? Adam risponde solo o non lo so oppure ancora non me lo ricordo quindi diciamo che questo faciolo si è messo in una posizione brutta da solo arriva il 2 aprile e Kate Greer si prepara per la ringa finale e architetta davvero qualcosa di assurdo l'avvocato l'avvocato porta in aula un manichino realistico di Rebecca appeso ad una corda rossa proprio per dare un po' più di scena alla sua ringa finale e secondo l'avvocato le azioni stesse compiute da Adam dimostrano la sua colpevolezza l'avvocato quindi sostiene che le cose siano andate così Adam trova Rebecca invece di avvicinarsi per controllare se si è ancora in vita per muoverla vedere se respira finge un semiattacco di panico e chiama il 911 non si chiede neanche se vivo o se morta finché non glielo chiede l'operatrice del 911 questo vuol dire che lui era già consapevole che Rebecca fosse morta la storia dell'accusa inizia con Rebecca che è in doccia ed è nel periodo del ciclo questo è possibile saperlo perché all'interno della doccia è stata trovata una macchia di sangue in quel momento Adam affronta Rebecca poi succede qualcosa per cui non si sa bene perché più tardi Rebecca si trova dall'altra parte della casa e questa cosa non è così impossibile da ipotizzare considerando che Rebecca viveva in una casa con 27 stanze quella villa era davvero enorme comunque proprio nella zona in cui si sposta Rebecca che avviene il crimine per terra nella camera degli ospiti in cui si presume che Rebecca sia venuta a mancare ci sono altre 4 macchie di sangue un asciugamano gettato lì poco lontano e poi c'è il cellulare di Rebecca qui la ragazza viene colpita 4 volte da Adam sviene Adam la lega la imbavaglia fa violenza su di lei e in un secondo momento la strangola manualmente quindi la uccide e poi la pende al balcone il movente Adam ha sfogato tutta la sua rabbia per ciò che è avvenuto a Max dopo la chiusura di Greer è il turno di Daniel Webb che per tutto il processo è insesito su un punto e anche la sua ringa finale non si discosta da quel punto lo ripete fino allo sfinimento dice che non ci sono prove che Adam abbia avuto a che fare con la morte di Rebecca e c'è da dire che Daniel Webb dalla sua parte ha i fatti investigatori diversi sono arrivati in effetti alle stesse conclusioni certo Adam può apparire un tipo strambo questo però non fa di lui un assassino dopo 6 settimane di processo tocca alla giuria prendere una decisione e in effetti c'è una grande differenza tra processo civile e processo penale in quanto in un processo penale si deve prendere una decisione unanime in un processo civile invece bastano 9 giurati su 12 per decretare la colpevolezza dopo 3 ore e mezza di delibera la giuria annuncia di avere un verdetto Adam ha causato la morte di Rebecca Zahau per la giuria la risposta è sì ritenendo Adam il responsabile della dipartita di Rebecca la giuria assegna alla famiglia Zahau più di 5 milioni di dollari di risarcimento la domanda è se Max non si fosse fatto male cadendo Rebecca sarebbe ancora viva sono davvero due morti interconnesse tutto nasce dall'incidente e poi dal successivo aggravarsi della condizione di salute di Max la causa ufficiale del decesso di Max resta un incidente dopo l'esito della causa civile l'ufficio dello sceriffo di San Diego riesamina le indagini sulla morte di Rebecca 8 mesi dopo nel dicembre del 2018 confermano il giudizio originale e concludono che la causa originale della morte resta il suicidio il 12 agosto del 2020 la famiglia Zahau intenta una causa contro il dipartimento dello sceriffo di San Diego per i documenti delle indagini sulla morte di Rebecca la famiglia Zahau sostiene che il dipartimento stia trattenendo dei documenti che contraddirebbero la conclusione secondo cui Rebecca si sarebbe uccisa in seguito alla dipartita di Max detto questo ragazzi per me questo caso è davvero davvero particolare quindi faccio anche a voi la stessa domanda secondo voi la morte di Max e la morte di Rebecca sono interconnesse? secondo me sì ma non riesco ad avere tutta la situazione chiara in mente secondo me manca qualcosa non sono riuscita a trovare qualcosa ma se voi sapete qualcosa in più su questo caso siete comunque pregate di lasciarmi un commento qua sotto assolutamente tutte le vostre aggiunte sono graditissime e vi ringrazio tantissimo per spendere anche tanto tempo per commentare i miei video voi cosa ne pensate di questo caso? secondo voi chi è stato a far fuori Rebecca? è stato Adam? detto questo io spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento e vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi ciao a tutti